Nel corso della puntata del 12 aprile De Filippi, manda in onda un filmato che mette Nicole e Andrea in una situazione scomoda. Nicole Santinelli torna al centro studio a Uomini e Donne, questa volta con Christian e Carlo. Iniziano nuovi scontri tra la bionda tronista e Roberta Di Padua. Si alzano i toni, con la dama di Cassino, che si alza dalla sua postazione del parterre, e si dirige verso il centro studio come una furia. Ciò accade nel momento in cui Nicole consiglia i futuri nuovi corteggiatori di Roberta di dire che hanno altre frequentazioni fuori. E la frecciata colpisce in pieno Roberta, che perde completamente le staffe e Maria De Filippi interviene per calmarla. Come ti permetti a dire una cosa del genere? Urla la Di Padua, avvicinandosi faccia a faccia a Nicole. Gianni Sperti difende la tronista, facendo notare che Roberta si è esposta per il suo corteggiatore Andrea tempo fa. La dama di Cassino, raccogliendo i consensi da parte della maggior parte dei telespettatori, afferma Orlando. Mi espongo, non vengo a scaldare la sedia. Quando Maria mi fa la domanda, rispondo, Andrea niente male. L'ho notato io Andrea. Ho visto un ragazzo e ho fatto un complimento. Non vedo chissà che cosa, che me la state facendo pagare. Io faccio quello che voglio qua dentro è chiaro? Loro sono sottoni con te solo perché sei sul trono. Non pensare di essere la più bella del mondo. Spero di essere stata chiara su Andrea. È un bel ragazzo ma non è il più bello del mondo. Basta con questa storia. Già durante la scorsa settimana è apparso a tutti abbastanza chiaro, che a rendere attivo a uomini e donne il trono di Nicole Santinelli, sono proprio gli interventi di Roberta. Infatti, il suo percorso non sta particolarmente appassionando il pubblico di Canale 5. Intanto, oggi Maria interviene per far notare alla di Padua cosa ha appena dichiarato Nicole nei suoi confronti. Roberta è bene che tu sappia cosa ha detto. Cioè che a lei gli uomini la corteggiano, e a te invece ti cercano solo per una notte, afferma la De Filippi, rivolgendosi alla di Padua. Questo alimenta l'ira della dama di Cassino, che si alza nuovamente dalla sua sedia per raggiungere la tronista. E si lascia nuovamente andare a forti critiche, in risposta chiaramente al duro attacco.